buongiorno federico benvenuto qui a torino allora rappresenti i tecnici della livorno aquatics siete qui a torino per gareggiare parliamo un po di questo trofeo ciao a tutti siamo venuti molto volentieri a fare questa gara perché si incastrava perfettamente diciamo nel nostro periodo di preparazione e in vista dei campionati italiani assoluti siamo qua col gruppo della prima squadra che chiaramente non prende parte ai campionati del mondo di doha e quindi è una tappa di passaggio in vista delle qualificazioni olimpiche e comunque un test di verifica importante perché comunque è una gara con un buon livello tecnico la possibilità di gareggiare in basca da 50 le finali anche questo format un po diverso dal solito con le batterie in corta e le finale lunga si è molto insomma è carina come cosa è un meeting comunque di un livello discreto e io l'ho fatto anche da atleta ho fatto anche vinto a fine della mia carriera di atleta e quindi ora ci ritorno in veste di allenatore bene i ragazzi come lo stanno vivendo no bene sono sono felici insomma di di gareggiare perché ora era un po che veniamo da un grosso periodo di lavoro e di allenamenti e quindi potestarsi e ritrovare un po ritmo gara importante quindi non vedevano l'ora comunque di mettersi un po alla prova in un contesto di gara bene e allora ci vedremo a riccione quindi certamente ci vedremo a riccione grazie grazie federico grazie a voi e ciao a tutti